A tutti piacciono le storie. In fondo siamo nati per questo. Per loro abbiamo inventato l'arte, conquistato pianeti e fatto scoperte incredibili nel corso delle epoche. Seguendo le storie ci siamo innamorati e, cosa ancora più importante, abbiamo capito cosa volevamo diventare. Per questo non smetteremo di inseguire ogni storia che ci conduca ovunque valga la pena andare, ma per farlo una storia deve saperci coinvolgere. Lentamente condurci dentro la realtà che racconta e offrirci tutti gli strumenti per riconoscersi in lei. Ecco perché è nata la soluzione Storytelling di Monster. Di che cosa si tratta? Di uno strumento innovativo di employer branding che cambia alle radici la comunicazione d'impresa. La soluzione Storytelling di Monster ha un unico obiettivo. Unire l'esigenza delle aziende di raccontarsi più efficacemente ai candidati al desiderio delle nuove generazioni di pensare al proprio lavoro in maniera più coinvolgente. Per riuscirci, Monster ha selezionato professionisti di diversi ambiti della comunicazione e li ha riuniti in un solo team. Attraverso il metodo del reportage, affidato a un giornalista professionista, la soluzione Storytelling di Monster racconta la realtà d'impresa attraverso un filtro inedito, emozionale e soprattutto autorevole. La soluzione Storytelling di Monster prevede la creazione di contenuti editoriali su misura, interviste personalizzate e realizzate sulle figure centrali dell'organizzazione, un reportage fotografico degli ambienti durante diverse fasi della giornata e un video racconto registrato in sede. Queste testimonianze dirette, raccolte in fase di reportage, confluiranno nel nuovo Company Profile dell'impresa, che sarà pubblicato su Monster.it e integrato con annunci e posizioni aperte. Un salotto digitale unico e ricco di informazioni verificate, dove l'azienda accoglie l'audience coinvolta con campagne di attraction, pensate per assorbire traffico dai social media, dai siti partner e dai principali motori di ricerca. E da qui si mostra attraverso il racconto autentico della propria storia, perché le storie piacciono a tutti. In fondo, siamo nati per questo.